Musica Pressione in rimonta e flusso in quota settentrionale, tempo stabile soleggiato al centro nord, in miglioramento al sud della penisola. In Toscana, domenica 30 gennaio, nuvoloso in mattinata, schiarite dal pomeriggio, in prevalenza soleggiato in montagna. Venti deboli occidentali con rinforzi sul litorale centro-settentrionale, mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud, temperature in aumento, soprattutto le minime. Sul territorio provinciale, da nuvoloso a coperto, a Lucche sulla Piana, temperatura minima 0, massima 13 gradi, in Valle del Serchio e zone montane, minima 0, massima 12, a Viareggio e sul litorale, minima 4, massima 13 gradi. Lunedì molto nuvoloso coperto, con possibilità di deboli precipitazioni, schiarite dal pomeriggio.